Chi è il più amato degli italiani? I tempi cambiano e se fino a qualche anno fa le donne avrebbero risposto senza pensarci su Ralbova o Luca Argentero, adesso è Antonino Cannavacciolo ad occupare le fantasie culinarie e non del pubblico femminile. Lo chef pluristellato di Villa Crespi continua senza intoppi la sua scalata verso la vetta più alta del successo ed è entrato di diritto nell'olimpo dei VIP più richiesti nel piccolo schermo. Pensate che Antonino Cannavacciolo ieri sera a 9 aprile si trovava in prima serata contemporaneamente a Che Tempo Che Fa e su 9 dove stanno mandando in onda le puntate della nuova stagione di Cucine da Incubo. Il leggendario Cuoco Napoletano ha poi partecipato anche a Che Fuori Tempo Che Fa disorientando di fatto i suoi numerosissimi fan che si sono trovati di fronte ad una durissima scelta, guardare Re 3 o spostarsi su 9. Molte di loro a giudicare dai commenti fioccati su Twitter sono stati costretti a fare zapping tra le due trasmissioni per non perdere neanche una parola del loro gigantesco Beniamino. Qualcuno ha scritto Ho obbligato mio padre a guardare Che Tempo Che Fa e a chiamarmi quando parla Antonino Cannavacciolo, intanto vedo Cucine da Incubo. Uno spettatore poi ha ironizzato Cannavacciolo, ospite a Che Tempo Che Fa e in contemporanea su 9 in onda con Cucine da Incubo, 1 e Trino.